A, 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 assorreta! Ho capito! A! E non è tanto complesso! Se proprio mi dovete tenere sveglio, ditemi qualcosa di interessante, di senso compiuto, qualche notizia di attualità! Ho! 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 Come non detto! Tre, due, uno, ecco! Ora una per la nonna, ancora! E via! Un'altra, un'altra! Una anche per Carola! Pronto? E eccolo! Se solo fossi già in grado di parlare, chiederei cinque euro a foto, ma quest'ora sarei già stato in grado di pagarmi la Bocconi! Sono state le due ore più lunghe della mia vita! Ah, chi lo dici! L'importante è che l'ha fatta! E a quanto è prevista la prossima evacuazione? E beh, secondo i miei calcoli, anche in base ai grammi di latte che ha bevuto, presumibilmente tra sei ore e ventisette minuti, massimo ventotto! Sì, però se supera le sei ore e mezza mi avverti, perché valutiamo di chiamare la guardia medica! Niente, oh! Nemmeno i miei bisogni corporali in pace mi fanno fare! Temperatura dichiarata? 16 gradi, secondo il sito dell'Aeronautica Militare. Temperatura percepita? 15 gradi e mezzo. Tasso di umidità? 80% E' in salita. Come in salita? E allora non c'è un attimo da perdere! E dobbiamo coprirlo di più? Roger, prendo un'altra tutina! E Roger, io un cappello in pile! E Roger, avvolgilo in una coperta e che sia di lana! Ale, via! Anche oggi mi fanno fare un'altra sauna! Con questi due è come vivere in un centro termale! Nina, nanna, mamma, tienimi con te nel tuo letto caldo... Dormi? Ma che... sveglio come un grillo! Vabbè, ho capito, dai! Ci vuole una Nina, nanna delle mie qua! Acqua azzurra o acqua chiara E in le mani posso finalmente bere! Na, na, na! Inseguendo una liballola in un prato Il giorno che avevo rotto col passato E balla, per me balla, balla Tutta la notte se sveglio Non ti permette ma balla Papà, ma perché? Perché? Vabbè, a questo punto tanto vale dormire Almeno mi evito certi spettacoli Dorme? Sì, da 5 minuti E allora dobbiamo svegliarlo Ma come, scusa? Sì, perché se dorme troppo ora Non dorme stanotte, non va bene Sì, ho capito Ma se lo svegliamo adesso Poi è agitato e non va bene Sì, ma io ho letto su internet Che è meglio agitarlo di giorno Che agitarlo di notte E io ho letto su internet Che non va interrotta la fase REM Perché altrimenti può essere pericoloso Per il sistema nervoso Sì, ma io ho parlato con la poericoltrice Che mi ha detto assolutamente Di non farlo dormire di giorno E io ho un documento firmato Dalla pediatra Che dici di lasciarlo dormire quanto vuole Sveglialo Assolutamente no Che ho detto sveglialo Ma non ci penso minimamente Non devi svegliare Assolutamente no Niente da fare Non si riesce neanche a dormire tranquilli Ma perché dovevo nascere con due genitori moderni? Che fatica la vita extrauterina Estremi rimedi Estremi rimedi